Allora questo libro si chiama Saremo alberi. Nella terra ci sono tanti semi che dormono. Prova a chiedergli sottopuce. Chi sarai da grande? Ciao ti chiami? Valentina Pierucci. Di quale associazione fai parte? L'associazione si chiama Cultura Libera. È un'associazione che ha come obiettivo quello di portare nelle scuole attività di vario tipo. Quindi da attività laboratoriali, incentrate sull'arte e l'immagine per i bambini più piccoli. Quindi ci rivolgiamo alle infanze e alle primarie. Mentre per i bambini più grandi portiamo nelle scuole dei momenti di riflessione. Quindi le nostre collaboratrici che sono delle professioniste fanno riflettere i ragazzi su tematiche come il bullismo, la legalità, il rispetto dell'altro. Condivisione anche tra i bambini. Abbiamo il nostro sito internet che è www.culturalibera.eu che racchiude un po' tutte le informazioni e anche la nostra mission. E tutti insieme saremo una grande foresta. E tu? Allora, ancora un altro? Va bene. Eh? Quindi voi? Cosa sarete? Non credere. Non credere. Non credere. Non credere.